Ieri ho visto un video di Mark Player, Mark Player, non so come si dice, dove giocava ad Happy Wheels molto molto silenziosamente. Allora a me è venuta l'idea di fare il gameplay più rumoroso del mondo! Siamo qui su Make Me a Sandwich! Ah sì? Dite che è troppo bassa la mia voce? Allora ci metto una bella canzoncina rumorosa così, sarà molto meglio! Ah sì? Mi sono scordato di dirvi di mettere le cuffie o abbassare il volume! E probabilmente dopo questo video tutti i miei vicini verranno sotto casa mia e mi schiaffeggeranno uno per uno! Ma chi se ne frega lo faccio per voi! In questo momento mi sento un sergente! Chi cazzo ha parlato? E la cosa mi piace! Certo, se non fosse per la mia gola che sta già andando via! Voi direte cosa faremo in questo gioco? Ah tra l'altro, ho già fatto un video su questo gioco! Ve lo metto in descrizione! L'obiettivo di questo gioco è ovviamente fare un sandwich! Non sapete? Fare un cazzo di sandwich! Giocate a questo fottuto gioco e imparerete! Probabilmente dopo questo episodio mi troverete all'ospedale! Ma fa niente il nostro obiettivo a fare un cazzo di sandwich! Non capisco perché questa fetta non cada per terra! Cerco di finire in fretta così almeno questo video posso chiuderlo e non posso perderla! La mia bellissima voce! Sì, se vedete qualche bug di questo gioco è normale! Perché fatto così è un gioco di merda! Tipo il panino che trema! Guardate che trick che ho fatto! Sono veramente fiero di me stesso! Non so come faccia il sergente ad urlare ogni giorno così! Ma veramente non vorrei essere nei suoi panni! Chi è quel lurido stronzo comunista che è che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Non provate a chiedermi di fare un altro video del genere perché vi banno tutti! Anche io idiota che lo sto facendo! E non riesco a fare un fottuto panino! Ah, vi ricordo che nello scorso episodio non è andata proprio bene con questo gioco! Non sotto! Perché vai sotto? No! Vero? Guarda è uscito tutto! Ho messo la fetta di pane ed è uscito tutto! Sì, in verità non sono incazzato! È solo recitazione! Fatto! Panino al pancake! Chi l'avrebbe mai visto? E per questo episodio è tutto! Ma che per questo episodio? Per questo video! Perché non ne farò mai più! Mi è uscita una voce da Gallila! Ma chi se ne frega! Non sono molto intonato! Madonna, ho seri problemi alla gola! Quindi, ciao! Oh mio Dio, la mia gola! Perché faccio questi video? Datemi acqua per favore! Hello! Prima di iniziare col video vi invito a cliccare con la campanellina bianca! Così, quando esce un mio video, avete la notifica!